Benvenuti sul canale di Instant Technology, un saluto da Ilenia e da Silvio. Oggi siamo qui per parlarvi di come scegliere adeguatamente la posizione di un subwoofer. Magari abbiamo comprato un nuovo impianto home theater o una nuova soundbar. Spoiler alert, probabilmente l'avete già posizionato nel punto giusto. Infatti, vista la caratteristica principale di un subwoofer, cioè quella di far suonare le bassissime frequenze, queste hanno una caratteristica molto importante, cioè sono invisibili all'orecchio dell'ascoltatore. Quindi possiamo posizionarlo praticamente ovunque nell'ambiente di ascolto senza riuscire a percepire la sua posizione. Però rimane comunque che la posizione migliore è quella tra i due canali frontali, se abbiamo un home theater, possibilmente vicino al canale centrale, oppure vicino alla soundbar. Ma a volte questo non è possibile, magari a causa dell'arredamento, che ci impedisce di posizionare il subwoofer esattamente dove vorremmo. E quindi cosa facciamo in questi casi? Dobbiamo cercare di capire se il nostro subwoofer ha davvero un suono invisibile e adirezionale. Per capire se il nostro subwoofer può suonare in maniera veramente adirezionale, la prima cosa da fare è capire quanto in basso possono scendere i nostri diffusori. Infatti, mediamente, gli home theater hanno uno standard di 120 Hz per il taglio in frequenza. Questo vuol dire che, fin tanto che il nostro subwoofer può suonare al di sotto di queste frequenze, risulterà abbastanza direzionale. Ovviamente lo standard vero, certificato da THX, sono le 80 Hz. Però generalmente non riusciamo a percepire la posizione del subwoofer, anche se siamo intorno ai 120 Hz. Quindi la prima cosa da fare è quella di capire dove impostare il taglio della frequenza. Per fare ciò, scolleghiamo il subwoofer dell'impianto, riproduciamo una traccia di sweep up o sweep down, quindi quella che spazza tutte le frequenze singolarmente tra gli 0 Hz e 20.000 Hz, e tramite una semplice app sullo smartphone, come può essere Spectrum per iOS, o ce ne sono comunque tante altre anche per Android, andiamo a disegnare un grafico delle frequenze, come quello che vedete qui in alto, e capire quando il suono dei diffusori inizia a calare. Qui dobbiamo impostare il taglio della frequenza. Ricollegando il subwoofer, poi facciamo un test finale per capire se ci sono sovrapposizioni o meno su punto dove abbiamo impostato il taglio della frequenza. Ok, quindi diciamo che abbiamo impostato la giusta frequenza di taglio e che siamo intorno ai 100 Hz. Qual è quindi la posizione migliore del subwoofer? Lo mettiamo davvero dove vogliamo? Diciamo che è preferibile che sia nella linea che congiunge i due frontali, oppure nello stesso piano della soundbar, questo per evitare fenomeni di sfasamento. Infatti, anche se alcuni subwoofer permettono di regolare la fase, questo non è molto semplice anche per un orecchio abbastanza allenato. E inoltre, i subwoofer di solito permettono di impostare solo 0 o 180 gradi, invece di tutti gli angoli possibili tra 0 e 360. Un altro consiglio è quello di posizionare in subwoofer, nel caso in cui sia di piccole dimensioni rispetto all'ambiente in cui deve suonare, posizionarlo nell'angolo. Infatti, empiricamente si vede come ogni parete che circonda il woofer va a incrementare di circa 6 dB la pressione sonora emessa dal diffusore stesso. Quindi, se lo posizioniamo per terra in un angolo, riusciamo a incrementare di 18 dB la pressione sonora del subwoofer, andando quindi a creare quel suono che tanto vogliamo. Al contrario, invece, se il subwoofer è di grandi dimensioni, soprattutto rispetto all'impianto in cui lo stiamo inserendo, beh, può metterlo un po' in crisi e metterlo in un angolo potrebbe non essere la scelta migliore. Ovviamente, quando vi parliamo di metterlo in un angolo o posizionarlo vicino alle pareti, si tratta di lasciare sempre almeno 10-15 cm, non proprio nell'angolino. Se poi vogliamo essere particolarmente meticolosi nel posizionamento del subwoofer, possiamo andare a fare una valutazione degli effetti delle onde stazionarie. Come facciamo? Posizioniamo il subwoofer nel nostro punto di ascolto, dove noi ci posizioniamo per ascoltare la musica, e mettiamo una traccia audio con dei bassi particolarmente importanti. Muovendoci nella stanza, riusciremo a percepire la differenza tra zone in cui i bassi hanno un volume meno importante e zone in cui il volume dei bassi è più importante, ed è proprio lì che dobbiamo posizionare il nostro subwoofer. Quando ci rimetteremo nella nostra posizione di ascolto, riusciremo ad avere un'esperienza di ascolto dei bassi veramente ottimale. Riassumendo quindi, possiamo scomporre il processo di posizionamento del subwoofer in due macro step. Il primo è quello di trovare e impostare la frequenza di taglio dei vari diffusori, e il secondo è quello di trovare la posizione migliore sulla linea che congiunge i due diffusori frontali. In questo modo riusciremo anche a evitare di fare un ulteriore settaggio, che è quello della fase che comunque risulta essere sempre molto complicato e mai preciso. Poi, se vogliamo, possiamo anche posizionare il subwoofer in una posizione nell'angolo. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Un saluto da Ilenia e da Silvio Ciao! Ciao!